No, non so che serie di state parlando. Keep up! Aspetta, la rotaia. Bello, mi sembra molto accogliente. David potrebbe essere un doucho, ma hai fatto scelta la sua scuola. Ma non è quello il fatto? Ah, c'è... ok. Si, ho capito, ma... Cioè, ha fatto tipo... Tutta la scena, il padre e tutto, però lei non è che è messa bene. Sì, in sostanza, lei è quella... Cioè, noi siamo quelli tipo proprio... Ligi. Lei è quella più trasgressiva e tutto. Dove adorare cinque bottiglie? In una discarica? Eh, non lo so se ce la faccio, è un po' difficile. Certo che se comunque lei mi desse una mano anche, non è che sarebbe... ...una brutta cosa, effettivamente, eh. Dove? Ho sbagliato a strada, scusa. Cosa è che faceva? Usciva? Allora, una bottiglia, qua. Una bottiglia! Niente, no, non le vuole. Mi sa che vuole solo quelle di vetro. Sai che dopo un certo orario le bottiglie di vetro non le danno più, eh? Fributata da Wall-Ee. Dove è Wall-Ee? Cacchio, lui ce ne ha le bottiglie. Sicuro? La donna che sussurrava alle... ...alle macchine fotografiche. Chi se ne frega? Oh, una bottiglia, toh. Hai trovato la bottiglia che ho messo io adesso? Aspetta, lasciala lì. Madonna, ho preso un colpo. Oddio. Ho detto che cacchio di bestia è. Mamma mia. Perfetta per una foto. Ma che cacchio sei dicendo? Ora effettivamente serve da provare a fare la foto. Anche perché così se ne accorge che non esiste in realtà. Oh, cacchio. Ma è vero o è falsa? E cosa hai fotografato? Fammi vedere che cosa ha fotografato. Non esiste. Non esiste quel robot. Non esiste. Oddio. Oddio. Cacchio. Potevamo fare le foto. Ci sono degli achievement per fare le foto alla roba. Oh, wow. Cioè, ti suggeriscono a cosa fare le foto. Beh, quello potrebbe essere una cosa per tipo completare, credo. Sì, tipo i collezionabili. Eh, però abbiamo perso il capitolo 1. Cioè, c'erano anche le foto da fare per il capitolo 1. Siamo cercando di un bottiglio, comunque. Ma è stato molto triste che una cosa. Molto deprimente questa situazione. Lei che si siede per terra. Lei non la discarica. Guarda. Sì, ma dove cacchio sono 5 bottiglie? Dai, ma davvero? Cioè, stiamo faticando a trovare 5 bottiglie in una discarica? Ma che cacchio di... Ma che... C'è una discarica falsa? C'è una bottiglia lì. Deve essere una bottiglia di birra. E basta, dillo allora. Non dire... Cercami 5 bottiglie. Voglio 5 bottiglie di birra uguale alla mia. Identiche. Allora, qua c'è... Qua c'è la rotaia. Cioè, scusa un attimo, ma lasciano una rotaia con la discarica di fianco così? C'è la rotaia. Grazie per la tipa. Pre. Ah, aspetta che c'è anche di qua. No, vabbè. Non voglio andare da quella parte. Voglio cercare bottiglie. Non lo so perché vuole 5 bottiglie. Allora, vuole 5 bottiglie, credo, per sparare. Cioè, lei voleva sparare alle bottiglie con la pistola. Il problema è un altro. Perché le vuoi tutte uguali? Se non va bene, tipo dei mattoni, non fanno la stessa rasce. No, no. In realtà no, però. Il metallo orugginito mi mette tranquillità. Ok. Oh. Oh. Ok. Boom. Cacchio. Alla grande. Stiamo andando alla grande. Beauty case. Un braccialetto. Ma è casa sua questa? Un messaggio da Warren, c'ho. Questa è casa di lei? Dimmi, Warren. No, mia mamma mi ha scritto. Spero non ti sia dimenticato di neer fare la pianta che ti abbiamo dato. Ma fai attenzione a non negarla. No, no, no. Posta la pianta, è tranquillo. Warren? Cos'è che sta scrivendo, Warren? Pensavo sarebbe stato figo fare un giro con la mia nuova macchina. Vorrà dire che guiderò in cerchio per la città. Ti sono sempre in debito. Già. Proprio per rimanere in quelle... Non te la faccio pesare, vai tranquilla. Ti sarò per sempre in debito. Già. Fai bene ad esserlo. Bravo Warren. Warren... No, non è sfigato Warren. Warren sa bene come trattare una donna. Sta seguendo pari pari... Oh, c'è una bottiglia lì. Warren sta proprio seguendo... Prendi una donna, trattala male. Devo salire lì sopra. Dalla macchina. Forse devo prendere l'asse. Sì. Oh, siringhe no. Forse è meglio lasciare lì. Sì, no. Il fatto è un altro. Non posso prenderli. Non posso prenderla l'asse. A meno che... Ah, ok. Non so se lo farei mai una roba del genere. C'è proprio lo schifo. Posto. Siamo a tre. Mamma mia. Oh, treno che passa. Che fatica a trovare queste bottiglie in una discarica. Non posso. Perché sembra che abbia preso il cartone. Un minimo di... Ah, perché si muoveva tutta? Boh, in realtà non è che sia così tanto. Però, comunque, è legno. E non so neanche se reggerebbe una discarica. Perché, comunque... Una discarica vuol dire che, probabilmente, era lì da tempo. Quindi è preso un fracco d'acqua. E appena lo tocchi, si... Diventa cartone, letteralmente. Questa è una palla? Ah, ah, ok. Sembrava tipo un pezzo di fegato. No? Allora, dai. Ci mancano due bottiglie? Due bottiglie. Sento una tita clue. Ascolta, dai. Una c'hai te. Allora, muoviti a finirla perché mi stai rompendo. Dai. Basta che non siano in mezzo, anche, perché effettivamente... Ah. Vedi? Noi abbiamo fatto il giro e tutto. No, no. Aspetta, mi sa che non posso lasciarla. Mi serve. Perché, giustamente, poi lei non può dire... Come faccio a prenderla? Come faccio a prenderla? Allora, qui. Una città little bottle per la prenderla. Al volo? Stupid bottle. Eh. Allora, o ci mettiamo qualcosa sotto... Toh. Ok, facciamo così. Cioè, non è che può fare tac e poi al volo. I riflessi, dai, cacchio, i riflessi. Un minimo. Adesso ti sali sopra. Ok. Brava. Brava. Fortissima. Fortissima. Attenzione. Ok, me ne manca una. Cosa vuole Kate adesso? Mi dispiace avermi disturbato il carico consiglio. Forse dovrei lasciare del... Che tutto il mondo si goda il mio video. Cosa? Ah, più tardi? Ma pacca, cazzo. Perché? Ma... Vabbè. Gli è salita la depressione. Tu puoi essere peggio del papà. No, no. Diglett. Diglett erano più facili. Sicuro. Cioè, no. Più che altro mi fa ridere perché stiamo cercando una bottiglia in una discarica. Cioè, non è che stai dicendo... Ok. Non è che stai dicendo è nascosta in una discarica. Cioè, quante bottiglie ci saranno in una discarica? Oh, 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 oh. Trovata. C'è successo? Mi è spaccato tutto. Trovata. Mamma mia. Mi ho fatto una cagata. Easy. Ok. No, no, ma l'avevo capito perché si era, si era causato. Si era, si era mosso mentre ci passavamo. Loro ho detto o cade adesso o cade dopo. Toh. Thanks, Max. Thanks, Max. Ma va a cagare. Ma cerca. E... Sta bevendo pure adesso. Allora, aspetta. Io ti ho chiesto di portare le 5. Perché me ne hai portate 20? Come faccio a colpirle tutte? Ho capito che ho 4 pistole, però ho detto adesso 5, non 20. Cosa? Cosa? Cosa devo fare? No? Cosa devo fare? Sì, sì, si potrebbe iniziare a scavolcarlo, ma è bello perché c'è... è stata assalita. Che devo fare? Destra. Ok. Oh, wow! Duh. Duh, duh, duh. Duh. Ok. Madonna, che imbecille che è sta cosa. Stiamo comunque abusando del mio potere. Io no... Io... Perché sono qua? Dobbiamo aiutare Kate. Dobbiamo fare qualcosa. Cioè, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Guarda come spara le bottiglie. Madonna, davvero. Dammi qualcosa da crivellare. Mi hai fatto raccogliere 5 bottiglie! Boh. Vabbè. Eh, spara il barile, sì. Eh, infatti era una cagata. Mi sa che è stata una cagata quella del barile. Andava bene la tenda laggiù. Poi non era una tenda. Ok. Spara all'asse blu. Ci mancava solo che la mancava. Vabbè. Che divertimento... Sì, infatti è molto emozionante sta... Cioè, che emozione ti dà a sparare... Con le pistole. Spara quello. Cosa dobbiamo fare? No, vabbè. No, vabbè. Ma quanto pericolosa sta situazione! Sì, sentiamo. Eh, chetta è calma! Spara qua. Non so dove deve sparare. Merda, lo sapevo. Che cagata. Sì, scusa! Sì, scusa! Sì, scusa! Sì, chloe. Che stupida scusa... Ma guarda. Guarda, proprio una di quelle robe che... Godo un po', eh, però... No, no, non può esplodere. Ma che cosa? Ma quanta benzina c'era dentro? No, raga, ma la mia domanda è un'altra. Adesso è da pensare, perché... Cioè, se... Se lei ammazza me... Cioè, metti caso che colpisce me... E io muoio? Cioè, finisce male! È finita! No, era una stranzata questa. Mira al copertone. Che cagliudevo dire? Sì, vogliono farsi ammazzare, chiaramente. Tra tutte le persone che sono in città... Che cagliudevo dire, io ripetere. Pensa a te. Non lo so, non mi sento... Non mi sento molto bene! Dai, ma vedi che sono stupide. Ma... Ma seriamente? Ma chi hai dato i poteri? Cioè, quando dovevi scegliere a chi dare i poteri... A me dovevi darli? Ma dali a Drapion! C'è che Drapion li usa stra bene, io lo so! No, a me! A me doveva darli! Ma guardate! Non mi fa ridere, però! Sì, sì! Sto divertendo un sacchissimo, guarda lì! Sono proprio divertita! Sono proprio contenta di usare i miei poteri in questo modo... Quando ci sono le mie amiche che soffrono le giornate... Ma vai tranquilla, io sono qua... A sparare delle bottiglie con te! Questa è proprio la mia giornata ideale! È questo che voglio fare nella vita! Sparare delle bottiglie! Non lo so, non credo! Non c'è ancora arrivata lei che forse stia male perché usiamo il potere, eh! Va bene, ok! Chiemo! È suo padre! No, chi è? Chi è questo tossico? Cos'è che c'è disegnato sul collo? È un piccione fatto male! Cos'è? Dalla pistola? Hai sentito degli spari? Forse ci abbiamo una pistola Sai com'è? A meno che i piccioni adesso Gli uccellini non ci inguettano A mo' di pistola Perfetto Perfetto Mi piace essere in queste situazioni Sì? La pistola ha puntata in bassa Lui si è avvicinata Ma hai una pistola? No vabbè che sparo No 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 buona 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 Troppo tale Sì ma allora c'ha dei Ma dove cacchio mi sono andato a cacciare io? Ma tutto questo perché La vita non è strana La vita sei te che te la sei fatta strana Porca vacca C'hai un super potere che È proprio contro le leggi Hai il controllo del tempo Ma che cacchio stai facendo Ma che cacchio stai facendo? Ma che cacchio stai facendo? Madonna Poi si lamentano perché io sto in casa E non ho contatti con la gente Ma se devo andare a finire così? Cacchio stai facendo queste sono le domande della vita perché c'era quel braccialetto non lo so non lo so guarda credo che non siano i miei pensieri in questo momento quel braccialetto sai com'è un po' delle domande inutili in questo momento dove è andato quell'altra mo? ah la c'è raga io un po' è qua Chloe infatti noi dobbiamo aiutare Kate cioè ma Chloe lo vedi già da subito che è una non lascia perdere ok cioè siamo passati dal non fare niente nella nostra vita ad avere le giornate piene di cagate e robe in cui rischi la vita fisso sentiamo in mezzo alle rotaie c'è una cacchio di collina lì di fianco vuoi stenderti sulle rotaie cioè questo è tipo mille modi per morire mille modi cioè lei vuole morire lei vuole estinguersi perché non le lasciamo estinguere cioè che cosa vuole da noi? vuole portarci con lei? cioè io non lo so lui era anche prima armato e pericoloso c'è un coltellino sai com'è no ma tanto ma ma le more si sicuro Frank Bowser ah no Bowers ok ho detto Bowser vabbè c'è già un bar non c'è un bar ah no non abbiamo sexo grossi ma non c'è mai avuto non ho mai avuto ho fatto il errore di pagare di pagare il money per cui Rachel e io potremmo qui è tutto? no voglio sapere come Frank ha fatto il bracetto di Rachel cosa pensi? non lo so non lo so il mio cervello è molto freddo ma non è un uomo è un uomo è così strano parlare con te con questo uomo Non mi ne frega niente. Non mi ne frega niente. Le fischio del treno mi fa sempre sentire meglio. Non ho idea perché. Perché vuoi morire, forse? Mi dissocio, ovviamente. Guarda il poeta, qui. Il fischio del treno, puoi ascoltarlo anche fuori dalle rotaie. Non è che lo senti meglio se sei sulle rotaie, ok? Lo senti meglio quando ti passa sopra. Quello sì. Guarda, guarda. L'abbiamo già visto dall'anteprima, tanto. Cosa? Perfetto. Eccalo. Questa è la droga. La droga inizia a fare effetto. Quando è la droga? Allora... Non solo anche a me. Ma non è la droga. Quando è la droga? Ma che bella? Matt! guarda io cercarei roba all'infinito potessi starei proprio qua a cercare roba fino a che un piede di porco si con questa posso ucciderla si lo spacco nella capoccia lo uccido direttamente ma non mi sembra una brutta idea eccomi tirala fuori sono qua che cacchio c'ho il piede di porco ma dov'è il treno ma sì allora ho trovato un piede di porco sì 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 palle due minuti arrivo a dovevo aprire la porta ok aspetta un attimo che riveo che palle quella donna ok piede di porco eh bingo ma guarda davvero dovresti lasciarla lì con l'ascia tagliamo il piede il suo piede non è una brutta idea eh se ci pensi scusa deve pagare ok allora allora scusa un attimo lei ha fatto la cagata se non impara mai eh eh cosa faccio con le trincette qua posso tagliare stai zitta posso tagliare qualcosa dove è il treno ah ascia non è uno zombie trova un altro modo è usato ah e lì il treno entri ok 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 a ok 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 ok